ristorante la botte allignano intervista al titolare benvenuti certo siamo benvenuti a questo ristorante veramente speciale welcome bene chiudiamo qua col servizio siamo alla botte al ristorante più famoso che ci sia e andiamo a intervistare il titolare e salutiamo il suo gioiello la sua cara signora allora senti la cosa dimmi qualcosa visto che da lunedì si parte siamo in zona bianca e tu sei il migliore di lignano a cosa mi puoi dire dai dimmi qualcosa dai dio santo che sa perché perché noi abbiamo le anime piene di queste chiusure capito dici cosa devo dire dici qualcosa che va bene dai che chiudono ancora di no no basta cosa ci vuoi far morire morire di fame tu ma che morire di fame noi abbiamo senti guarda io ti faccio un gran saluttone perché sono un grande personaggio te conosco da 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 20 anni guarda da 20 anni e sei cresciuto in un modo pazzesco e adesso che finiscono che finisca sta zona qua che tu devi lavorare caro ma si sa si sa questo senti voglio soltare anche il tuo gioiello è la tua signora la mia signora bellissima è arrabbiata è arrabbiata è arrabbiata boh senti ti saluto ci vediamo bene chiudiamo qua con il servizio e che piove e via con la botte ciao 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 ciao